ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi voglio mostrare questo salvadanaio busto del joker sempre dalla serie animata di batman e per la stessa linea del batman che vi avevo già fatto vedere negli scorsi video andiamo a vedere più da vicino il nostro joker il volto è rappresentato davvero bene frontalmente non mi convince tantissimo ma quasi nessuno riesce a prendere la somiglianza del joker frontalmente guardate invece di profilo è praticamente identico alla serie animata è veramente veramente ben fatto e come per il batman ha un costo irrisorio guardate poi tutti i suoi dettagli come per batman prezzo ridicolo adesso è già un po più raro ma secondo me potete trovare ancora magari dall'estero qui sotto abbiamo sempre la solita etichetta che si può rimuovere per togliere le monetine ma utile ovviamente io non lo utilizzerò vi ricordo che sono prodotti dalla diamond select se li volete cercare online guardate comunque che bei dettagli che hanno per il prezzo ridicolo vi faccio vedere anche le dimensioni di questo joker siamo attorno ai 20 19 cm di altezza diciamo e di larghezza contando tutto sempre 19 cm quindi niente male ve lo faccio vedere insieme a batman della stessa linea e come potete vedere insieme fanno un figurone se li volete anche utilizzare semplicemente come busti e esporli nella vostra collezione secondo me ci stanno veramente veramente bene fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti ad un prossimo video e ciao a tutti